Con il 90% dei treni puntuali, la Toscana è la seconda regione in Italia per l'affidabilità del servizio ferroviario dopo l'Emilia Romagna. A diffondere i dati l'assessore regionale trasporti Luca Cecobao, che ha sottolineato come il 2012 sia stato un anno particolarmente difficile, a causa delle nevicate di febbraio che hanno portato in un solo mese alla soppressione di 1.451 treni. Sono salite così a 4.300.000 euro le sanzioni applicate dalla regione a Trenitalia nel 2012, 800.000 euro in più rispetto all'anno prima, di cui 1.300.000 per ritardi, cancellazione di corse e mancato rispetto degli standard di qualità, e 3.000.000 per servizio non prestato. I primi due mesi del 2013 sono cominciati meglio perché siamo la prima regione per i dati ufficiali per quanto riguarda la stessa puntualità. Bisogna migliorare, ci vuole un grande impegno. E proprio per migliorare da dicembre scorso sono state adottate alcune misure sui treni di fascia pendolare del mattino fra Siena, Valdelsa e Firenze, passando da una percentuale di ritardi del 78% all'85,8. Per un miglioramento sostanziale però bisognerà aspettare l'arrivo dei nuovi treni, che si aggiungeranno a quelli a due piani già in funzione su alcune linee elettriche. Altro dato positivo, la Toscana con 750 treni regionali al giorno, è quella che dispone della rete ferroviaria più capillare.